Chiederemo di lavorare insieme per un grande patto, tra governo, sistema delle imprese, organizzazioni sindacali, regioni, per fronteggiare questa grande emergenza che ogni giorno porta via persone che perdono la vita nei luoghi di lavoro. Non basta più lo sgomento, non basta indignarsi, bisogna passare dalle parole ai fatti, bisogna rafforzare verifiche, controlli, ispezioni nei luoghi di lavoro, bisogna assumere ispettori, tecnici della prevenzione, medici del lavoro, bisogna incrociare le banche dati, investire sulla qualità delle imprese, dare più potere ai nostri rappresentanti sulla sicurezza negli ambienti lavorativi e poi fare un grande investimento sulla prevenzione, sulla comunicazione, sull'informazione, cominciando a parlare di sicurezza già sui banchi di scuola. E poi chiediamo un maggior impegno nel sistema delle imprese. Alcune continuano a considerare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un costo e non un grande investimento. Le aziende più sicure sono quelle più innovative, più produttive, più competitive.